ciao a tutti oggi vi facciamo vedere lo stone hd scalda vivande elettrico come dice già il nome si tratta di uno scaldavivande elettrico perfetto per chi viaggia o per chi è in ufficio semplicemente come potete vedere abbiamo la parte esterna che poi lo scaldavivande vero e proprio con chiusura con elette in plastica a sopra è presente una valvola per sfogare il vapore troviamo anche uno scomparto contenente un cucchiaio e una forchetta in acciaio ecco qui vi mostriamo meglio la valvola per far sfogare il vapore aprendo lo scaldavivande troviamo un contenitore in metallo quindi molto pratico anche una volta terminato il pranzo da sciacquare o mettere direttamente il lavastoviglie è presente anche una piccola scatola in plastica un contenitore extra abbiamo poi due cavi quello bianco è la classica presa da muro da 220 volt poi può essere sostituito con quest'altro cavo nero che è la presa per la macchina quindi quella da 12 volt si distinguono poi dove inserire il cavetto in base alle scanalature presenti sull'innesto quando non è attaccato si chiude in questo modo qui abbiamo poi i comandi per accendere il nostro scaldavivande il sistema di riscaldamento lento e progressivo permette di non bruciare il cibo ma scaldare in circa 30 minuti come abbiamo detto uno strumento adatto a chi mangia in ufficio o chi è spesso in viaggio e quindi ha bisogno di scaldare il pasto speriamo di esservi stati utili e alla prossima recensione grazie a tutti